musica 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 bella a tutti ragazzi sono un buongiorno e oggi ci vediamo un nuovo video di jetcraft oggi volevo dirvi come quindi eh volevo fare un tutorial su come quindi votarci eh su minecraft vita per votarci su minecraft vita eh dovete essere premium allora quindi basterà cliccare sul tasto vota fate votarci e vi dirà che il voto è registrato con successo grazie allora quindi potete ora scambiare i vostri i vostri punzi quindi con dei items oro carbone redstone mele io ad esempio prendo redstone autorizzo lo scambio autorizzo lo scambio ok ora basterà andare sul server e scrivere premio redstone quindi quindi ragazzi il sistema impiegherà un po' di tempo per caricare nel server i premi che dovete ritirare quindi come vi ho detto posso fare lash premio redstone gold iron quello che avete scelto e ragazzi vi ripeto vi ripetisco che il nostro che il nostro server FTP 1.5.2 l'IP lo troverete in descrizione ed è scritto anche qua mc16.minecapteuro.eu 2.25605 e iscrivetevi nel nostro forum per esporre i propri problemi che avete nel server con dei players e che direi ragazzi alla prossima da buongiorno